Saluta! Ciao! Sentite, un ecco di una macchia faccia i gattini e hanno già aperto gli occhi solo che sono ancora tutti neri quindi vedono un pochino ma o scurito o chiarito Chiarito? Sono di piccoli piccoli Sì, sono così Così, fammi vedere le dita Così sono E si chiamano tigrotto è un uguale al nostro gatto che è là che dorme Saluta gatto Aspetta c'è il mio piede Ciao E poi Una lunina che è uguale alla mamma Poi Giorgio che è un gatto rosso E poi c'è macchia che è bianco e nero E noi siamo decisi da prendere o macchia o tigrotto Però io ho scelto macchia Tigrotto Anche io No, in realtà io ho scelto macchia Solo che a te non ti piace Vabbè Come si sarà capito Questo è un video senza un perché Vero Gio? Non è utile questo video E volevamo solo chiacchierare un po' così la sera Per riraccontare un attimo un po' di cose Perché domani partiamo Eh infatti perché Però Casomai su lei si porta la videocamera Può fare No, la porto magari faccio dei video Poi li montiamo Mi sento Mi sento di dire una cosa E mi sento di chiamano la mia Eh ma sono le pile Vabbè Vabbè mi porto la mia fotocamera che ci faccio le foto Vabbè Che raccontavo un po' di cose Ogni tanto E niente Avete visto il video vlog Caricato prima Con Federica Abbiamo Cazzeggiato un pomeriggio Così Senza niente da fare Tu cosa hai fatto oggi? Eh oggi Ieri Sono ammortato a me Il rumore di Andrea Quindi sono tornata Dei tuoi cagini I miei Ci sono uno sopra l'altro Perché Tutti i supporti di grotto Perché Loro Amano il caldo Il tigrotto è il caldo Spogliate lo fanno così E vanno tutti i supporti di grotto Così Si accucciano E la mamma E gli grida Io invece sono Scusa la Federica Sono tornata a casa Più o meno alle 7 Poi abbiamo mangiato Abbiamo visto Quel pazzo venerdì Che è un film pazzesco Bellissimo Se lo conoscete Fatemi sapere Con un commento Qua sotto E fatemi sapere Se Siccome io ultimamente La sera Ho voglia di vedermi un film Però non so mai che cosa La sera O il pomeriggio Quando c'ho tempo Fatemi sapere Con un commento Quali sono i vostri film preferiti Perché magari Mi ricerco Oppure magari C'ho anche Perché mio padre C'ha un sacco di film Di DVD Fatemi sapere Con un commento Quali sono Zitta Fatemi sapere In un commento Quali sono i vostri film preferiti Così magari Ricerco Ci c'è sempre Il gatto Che fa la nonna Ciao gatto Che fa la nonna Dove vai? Giuseppe Abbandonato E E niente Domani partiamo Quindi non ho avuto Il tempo di fare Di caricare Il video E lo caricare Quando torno Adesso A questo punto Mi dispiace Ma non ho avuto Proprio tempo E' preso La macchina E' preso La macchina Questa è la cucciola mia Guardate che figata Ma Giulia Non ce ne frega niente Ehm Che volevo dire E' che appunto Adesso ce la posso fare Giulia Domani partiamo O mi porto La macchina fotografica E faccio dei pet di video E poi li monto insieme Oppure Semplicemente Faccio i video Con l'iPhone E poi li carico Però è più carino Se porto la macchina fotografica Giulia La pianti E faccio dei video Che poi monto Quando torno a Roma Perché effettivamente Sarebbe più carino Viene meglio Diciamo Perché con l'iPhone Sono fighi Però non è una grande qualità Diciamo Ehm E niente Ho di nuovo mangiato il gelato Stasera Non devo mangiare Già sono tutte le sere Che poi Poi ingrasso Già non sono magra Poi se mi metto a mangiare Pure il gelato E E niente Adesso non è tardi Come ieri sera Quando ho fatto il video Effettivamente Adesso Giulia basta Ma le hai dato il flash No Non le hai dato il flash Sì guarda No non l'hai tolto Hai fatto una cosa assurda Non lo so Adesso Vuoi evitare di scattare le foto Per favore Spegni Allora vai di là Non puoi fare le fotocopere Che mi dai fastidio Ok Mi faccio Che stavo dicendo Ecco Non è tardi Come ieri sera Però sono lo stesso E non ho stato pietoso Abbastanza Però sono ancora truccata E E niente Quindi Non ho nient'altro Da dirvi Questo è un altro video Vlog Inutile E E niente Quindi io vi mando Un grossissimo bacio Vi do la buona notte Se state guardando Questo video adesso Altrimenti Buongiorno Buon pomeriggio Buonasera Ma come fanno a preverlo adesso Se non è il menu caricato? Se adesso Lo carico subito Possono vederlo subito Appena lo metto In carico Online Vabbè Quindi niente Io vi saluto Ciao ciao Vediamo se magari Riesco a fare un altro video Prima di partire domani Col telefono Un vero domattina Mentre faccio la valigia Sarebbe figo No vabbè Quindi vi mando un bacio E saluta Ciao gatto Ciao Buonanotte Ciao Ok